buongiorno ben ritrovati voi tutti cari amici dal sottoscritto nicola de lucia scusate un po raffreddore parliamo di serie b che è arrivata la giornata numero 23 posticipo monday night del lunedì tra salernitana e strapani vinto dalla salernitana che giocava tra le mula ming con un gol di diuric al dodicesimo vittoria della salernitana quotata bene 1 90 1 95 1 94 per quanto concerne la classifica possiamo dire che al momento la salernitana tendiamo ecco qua e quarta in classifica 36 punti nelle ultime cinque partite ha vinto tre partite mentre il trapani è penultimo in zona retrocessione diretta 19 punti terza sconvista delle ultime cinque partite la salernitana in piena zona playoff direi se vogliamo anche promozione diretti in serie a giocherà tra sei giorni in casa del chievo che occupa la posizione numero 11 a quota 31 punti riduce da tre pareggi nelle ultime cinque partite mentre il trapani giocherà il 16 febbraio in casa della cremonese un vero e proprio scontro diretto salvezza visto che la cremonese diciassettesima quota 23 punti quindi concludiamo il video ribadendo salernitana batte tra le muramiche una zero il trapani e continuo il suo percorso verso il playoff o magari chissà la promozione diretta in serie a grazie a tutta la prossima ciao